La nostra azienda nasce e produce da sempre in provincia di Vicenza, zona tradizionale di fornaci per una presenza di un'ottima argilla. Il Latrizio è un prodotto naturale utilizzato da millenni, di cui qualità e proprietà sono conosciute. E' altresì vero che negli ultimi anni le esigenze normative hanno richiesto un'evoluzione del prodotto stesso. Per adeguarsi a richieste di maggiori prestazioni termiche, acustiche e statiche. Appunto per questo abbiamo sviluppato prodotti innovativi, come ad esempio i blocchi a setti sottili, i blocchi a setti sottili rettificati, che permettono da soli di ottenere prestazioni termiche ottime anche senza l'aggiunta di isolanti o cappotti. Per quanto riguarda la statica, proponiamo la muratura armata, che consente di utilizzare muratura portante in zona sismica senza ricorrere a telai in cemento armato. Oltre a questo abbiamo tutta la gamma classica di prodotti in muratura, blocchi acustici, foratame, tavelloni e fondelli per travetti. Per i solai proponiamo il sistema Unisol, che rappresenta la più recente evoluzione in materia di solai prefabbricati e destinati all'edilizia residenziale. Esso condensa in un'unica proposta tecnologica i vantaggi specifici delle singole soluzioni tradizionali, fornendo una risposta versatile e sicura a tutte le domande poste dal costruttore moderno. Per ulteriori dettagli e informazioni visitate il nostro sito internet www.zanrosso.com www.zanrosso.com